ciao sono alex rappresentante dell'officina redline ci troviamo nella provincia di roma siamo un'officina che si occupa della tappezzeria interna delle auto come sostituzione dei cieli dei pannelli ma anche dei sedili e dei volanti inoltre facciamo anche il detailing interno ma offriamo anche servizi come lucidatura dei fari delle automobili ma anche delle moto oscuramento veri sostituzione cristalli di tutti i tipi di veicoli ma anche calibrazione di sistemi sicurezza adas come appunto sensori di parcheggio telecamere telecamere 360 e mantenimento di corsia per maggiori informazioni e chiarimenti vieni a in via di tulipani 19 21 guidogno